Inconveniente è cozziro, c'era un attimo che o volevamo in acqua o riuscivamo ad amainarlo in qualche modo E' tutto su, l'accelerato Lui era tra quelli che rischiava di volare in acqua L'armatura quando va in barca è sempre felice, poi ha già avuto a camminare la barca Lavorare duro qui, bellissimo, prima esperienza per me Elisabetta è diventata più esigente, ciclonometra Il cronometro è questo, ho cronometrato le cronometre Finalmente fuori dalla zona di comfort Adesso siamo più coordinati in generale come equipaggio Monitorando i tempi siamo pronti per l'aver che scappa Oggi siamo qui nel training del 3-4 dicembre Dove va a mettere pioggia per fortuna qua Sembra che potrebbe spiovazzare ma leggero E oggi siamo sull'ammiraglia Sì che il vento ci aiuta a uscire Quindi lui ci ha preso gusto e adesso fa così Qua l'armatore Io spiego le cose nella teoria Dopo nella pratica è sempre diverso Quindi oggi lui piace fare tutti i suoi pastrucchini Ci devo mettere il parabordo all'It? No Non la faccia con gente Qua tirare su tutta sta randa Venite venite Ma la facciamo fare noi La palestra Quindi c'è quella cima lì? Sì Retriever Ok Questa qua è la mura del gennaker Che se ci se la dimentica Qualcuno deve pur riandarla a prendere Aldi cosa sono andato a fare sul buon prezzo? Niente volevo vedere se l'acqua era calda o fredda Però non sono riuscito a toccarla Adesso abbiamo Il punto di mura Andremo Chi sta alle drizze Andrà in pozzetto Ci aprirà la mura Una manigliata La testa Due Uno Stambiamo Oh yeah Allora oggi qui abbiamo l'armatore La comandatessa delle Perelesse Io sono passeggero Supervisore E basta Intervengo da là dove Neanche la comandanta C'è arrivata La comandatessa La comandatessa Poi ieri avevamo il rinforzo di Alberto E davanti abbiamo tutto l'equipaggio Che ieri hanno visto come si arma la barca E oggi Gli abbiamo dato il compito di armare la barca Da soli Questa è la barca La barca La barca Lavorosa di Perelesse Io ho ripreso tutto Stai riprendendo adesso Vado Ma è mezza Le cose che non bisogna imparare Lavorosa di Perelesse 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 Avviso di Perelesse Avviso di Murrasca Del 04 dicembre In Ato Murrasca Da Sudest Forza 8 Su Adriatico Centrale La velocità La velocità serve anche per questo Una mainata Una riduzione delle vede Un cambio di direzione La velocità Grazie a tutti. Grazie a tutti.